Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di mister Paolo Zanetti, antivigilia di Ellas Verona Monza, ottava giornata di Serie A Any Live. Iniziamo pure con Gianluca Tavellin, Quotidiano L'Arena. Grazie. Ciao mister, ben ritrovato. Anche il calcio non è scevro dalle mode. A me sembra che al di là che poi sono gli uomini che determinano un modulo, si sia accantonato troppo presto quel 4-4-2 che hai fatto vedere con il Venezia, che è comunque un modo di stare in campo, di iniziare a stare in campo, perché poi ci sono delle variazioni sul tema, che offre grande, secondo me, stabilità per una squadra che ha la ricerca completa della propria identità. Volevo un tuo parere. Sì, sì, è più che altro un modulo che, se di moduli vogliamo parlare, che sicuramente si sposa per le caratteristiche che abbiamo. non è l'unico modulo. Quindi questo è un po', diciamo, il calcio che va in questa direzione, c'è tanta strategia, ci sono spazi diversi di gara in gara. Normale che l'identità è importante, l'identità non sia solo con i numeri poi sulla carta, ma sia avendo una certa mentalità, avendo sempre in campo dei giocatori più o meno offensivi. Noi, se c'è una certezza, abbiamo sempre avuto in campo almeno tre punte, al di là di moduli, e per necessità abbiamo dovuto cambiare la difesa. Oggi, per entrare un po' nel tema, abbiamo perso Frese, come avete visto, fino a gennaio, abbiamo perso Davidovic per 8-10 partite, e quindi anche lì cambiano dei progetti che volevamo fare all'inizio, perché poi esistono gli imprevisti, ma la squadra credo che abbia fatto vedere di comportarsi bene, anche a quattro, con una certa mentalità che poi figlia anche di un'aggressività, di un pressing che abbiamo avuto in avanti, che è un po' una parte della nostra identità, quella di cercare di andare al recupero della palla, di essere aggressivi, di portare subito la partita dove vogliamo, soprattutto in casa, davanti al nostro pubblico, e credo che adesso abbiamo anche un rientro importante di Serdar, quindi anche lì sfido chiunque a non pensare che Serdar non debba avere spazio in questa squadra, e quindi è normale che noi, al di là dei sistemi, debba fare delle considerazioni su qual è il vestito giusto per mettere in campo i giocatori migliori che abbiamo dal punto di vista tecnico. Ecco, rilacciandomi a quanto tu hai appena dichiarato, visto che, se non vado a rato, ci sono tre partite in otto giorni, il fatto che Serdar abbia giocato fino a questo momento solamente 20 minuti, può essere un giocatore che entrerà nella partita, e quindi terrai l'assetto con i due, perché effettivamente hai tre grandissimi centrocampisti, Duda, Serdar e Belayan. Grazie. Allora, intanto Serdar rientra, è rientrato già 15 giorni fa, quindi fa parte in pieno del gruppo Sicandida, per giocare, un giocatore che non ho mai nascosto la mia stima, ma come noi l'ho nascosto poi per Belayan, per Duda e per altri ragazzi che abbiamo, e quindi un ragionamento va fatto ora, va fatto in futuro, poi è sempre il campo che parla, sta a loro dimostrare di meritarsi la titolarità, però deve assolutamente entrare in questa squadra, c'è bisogno di tutti, ci sono tante partite, adesso inizia un ciclo veramente difficile, le parità ravvicinate e importanti, e noi abbiamo bisogno dell'organico al completo, e io devo scegliere i giocatori giusti per la partita. Matteo Fontana, Corriere di Verona. Ciao mister. Ciao. Buona giornata. A proposito di rientri, un quadro su quello, visto che c'è sempre una tassa da pagare per le nazionali, e in questo caso è scattata per Pavel Davidovic, quindi che starà fuori per il tempo che hai detto, e in generale gli altri come stanno? Il tempo per prepararli con la squadra non è molto, però la condizione qual è? Sì, allora a parte Pavel che abbiamo già detto, noi purtroppo ogni volta che c'è questa sosta dei nazionali, sono sempre lì a sperare che non succeda qualcosa, però ultimamente ci sta capitando spesso, e al di là di questo gli altri sono orientati abbastanza bene, devo dire la verità, il meglio dell'altra volta, hanno dovuto recuperare sicuramente almeno due giorni dopo la loro partita, quindi c'è un piccolo vantaggio di giocare lunedì sera, che abbiamo un giorno in più, che non è poco, e che quindi onestamente si candidano tutti, la cosa importante dal punto di vista fisico sono a posto, ma è importante anche l'aspetto mentale, l'aspetto della tensione, noi abbiamo una partita importante davanti, spendono tanto quando vanno in nazionale, giustamente anche per due partite di fila, ma noi abbiamo bisogno non solo dell'aspetto fisico al top, ma anche dell'aspetto mentale al top, quindi quella è un'altra valutazione che secondo me va fatta, però sono giocatori importanti, come lo sono nei loro nazionali, lo sono indubbiamente anche per noi. Ecco la partita, andremo su questo argomento, il Monza, il Monza ha una classifica inclemente, a fronte però di qualità indubbia, ecco quindi un ragionamento sull'avversario che troverete, come ve lo aspettate? Ma non c'è molto da dire, il Monza è una squadra che fino a poco tempo fa è stata costruita per altri obiettivi, per salvarsi facile e guardare all'Europa, normale che mi viene difficile pensare che un organico del genere possa essere inserito in una lotta per salvarsi, oggi la classifica è questa, ma è solamente l'inizio, quindi una partita difficile, importante per entrambi, non di certo importante solo per loro, come leggo che loro vogliono ripartire da Verona e noi ci faremo a trovare pronti sul campo di battaglia. Tommaso Badia, Calcioellas. Ciao mister, volevo ricanciarmi un po' il discorso iniziale che hai fatto riguardo gli uomini giusti, il vestito giusto, ecco. Volevo appunto chiederti, avendo uno tra due Dani Silva in cabina di regia e Belai anche al momento tu hai più volte definito insomma insostituibile al momento, è Serdar che ti rientra. Potremmo anche rivedere, cioè vedere a breve Verona con un centrocampo a tre, che è un modulo che insomma a te è anche stato piuttosto affine durante la carriera. Sì, 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 perché no? Io non sono legato, l'ho già dimostrato, non sono legato ai numeri, mi interessa che però i giocatori siano tutti messi nelle posizioni giuste e soprattutto che i giocatori migliori vadano in campo. Io penso che a questi livelli ormai in Serie A, ti faccio un esempio, Duda è vero che gioca a due con noi, ma in nazionale fa la mezzala. Se vedete le partite nella Slovacchia fa la mezzala a destra. C'è Lobotka che fa il play e si adatta benissimo, lo fa benissimo, ha fatto un europeo al top, così Serdar lo è di natura, Belayan è un play nato. Quindi non ci sono problemi se dovessimo giocare a tre. I problemi nascono nel momento che si perde un certo tipo di mentalità, che si perde un certo tipo di aggressività, che non si è equilibrati nella fase di non possesso, perché quella di possesso abbiamo già dimostrato a numeri di andare spesso al gol, se non sempre, fino ad oggi. Ma l'equilibrio poi per una squadra che si deve salvare deve essere nella sua identità difensiva, nell'essere solidi e quindi il sistema poi deve andare in questo senso per quanto mi riguarda. Quindi se i ragazzi mi dimostrano che giocando insieme mi garantiscono sicuramente qualità, perché questo è certo, ma mi garantiscono anche una grande solidità, io non vedo problemi a giocare a centro campo a tre. Alberto Fabri, Hellas Live. Ciao mister, ben trovato, buon pomeriggio. Parlando di mentalità, a che punto è Davide Faraoni, che secondo me è un giocatore che vederlo in panchina per quelle che sono le sue qualità fa, tra virgolette, sorridere ovviamente, tu vedendolo quotidianamente sai il valore del giocatore e quello che ti può dare. E ti chiedo appunto, parlando di mentalità, visto che la sua è stata un'estate turbolenta, diciamo così, perché è rientrato a Verona dopo un prestito non felicissimo a Firenze, poteva nuovamente chiudere la valigia per andare in altri lidi, ti dico come l'hai ritrovato il giocatore e visto anche l'infortunio adesso di Frese che ti obbliga un attimo a rivoluzionare con Bradaric, che comunque penso che sarà confermato, ti chiedo appunto, e Faraoni mentalmente quanto ti può dare? Allora, diciamo che intanto ho un rispetto enorme e onestamente ho anche stima del giocatore, ma anche del ragazzo, è un giocatore che è sempre a disposizione, sta giocando poco, ma anche perché penso che abbia davanti un giocatore importante per noi, per qualità, per fisicità, che è Chachua, e sicuramente anche un giocatore importante per i club, perché chiaramente è un uomo mercato e noi certe cose non dobbiamo mai dimenticarle, per essere chiari sempre, però credo che ci possa dare una grande mano, a livello di mentalità, lui si allena molto bene, c'è sempre, è tra quelli che, tra quei giocatori che vogliono bene veramente il Verona, lo si sente, lo si avverte, ora sicuramente lì c'è da fare delle riflessioni, sicuramente Bradaric ha dimostrato di meritarsi il posto oggi, ma le parite sono tante, so che Chachua può giocare anche a sinistra, l'ha già fatto anche in passato, l'ha fatto bene, potrà avere sicuramente un po' di più minuti, e devo dire che lo meriterebbe anche. Un altro giocatore che tu giustamente hai sempre dato per quel che riguarda l'impegno, ovvero Moschera, Tengstead ha dichiarato che giocare con lui, insomma, si compensano bene i due, 4-4-2, 4-2-3-1, insomma i moduli, dopo sappiamo che in campo trovano il tempo che trova, però può essere questa anche una delle chiavi del tuo Verona, appunto, mettere il danese in condizione di rendere meglio, magari partendo anche più dietro rispetto al colombiano, grazie. Sì, sì, assolutamente. L'avevo già detto in tempi non sospetti che si sposano molto bene perché ovviamente Moschera gli fa un lavoro sporco incredibile e lui si concentra sulla parte qualitativa. Questo discorso mi piace fino a un certo punto perché non significa che poi Casper non si debba, diciamo, preoccupare della fase di non possesso di pressing, noi abbiamo bisogno di tutti i giocatori che ragionano nello stesso modo. Poi lì ci sono le caratteristiche e sicuramente Casper non è un centravanti da isolare, non è un giocatore che da solo fa reparto ma è un connettore di gioco incredibile. Lui è uno che gli piace prendere palla, gli piace muoversi tra gli spazi, gli piace arrivare da dietro però quello che gli ho anche detto che in quella posizione mi piace molto ma non voglio che diventi un assist man solamente ma voglio che continui comunque a giocare per i gol perché il rischio è un po' quello che si piaccia un po' e che ci dimentichi invece per che cosa è stato preso che è invece per puntare al bersaglio grosso quindi lì quello che vorrei avere è più soluzioni più armi più modi e anche una certa imprevedibilità al di là di modi sicuramente è una coppia molto molto interessante e vedo anche già raggiungo un altro giocatore che sta crescendo e che ha delle caratteristiche diverse da Moschera gli fa meno gioco sporco ma gli attacca più lo spazio gli crea comunque spazio nello stesso tra le linee per giocare in un modo diverso mentre Moschera impegna i difensori in un modo Sarri gli impegna attaccando gli spazi in velocità quindi si stanno bene insieme tutti e tre secondo me questi giocatori mentre il livramento ha dimostrato di poter fare molto bene anche l'esterno anche un po' più spostato in là Francesco Galvagni Tutto Mercato Web Ciao mister ti chiedo delle scelte in difesa perché insomma c'è molta scelta tra Magnani Coppola Daniliuk e poi chiaramente anche Ghilardi che comunque all'esordine Sarriano ha fatto molto bene Sì in difesa in realtà questi sono i centrali in difesa senza Davidovic e Frese inizia a essere un reparto dove in realtà abbiamo perso pezzi importanti su quello che riguarda Ghilardi ti dico quello che penso molto onestamente perché serve anche per gli altri io penso che un giocatore che non gioca che gioca poco come è stato Ghilardi fino ad oggi combatte tutti i giorni per farsi trovare pronto quando sarà il giorno che verrà chiamato in causa e lui ha dimostrato di esserlo ha sfruttato il suo momento e quindi per come ragiono io domani va in campo lunedì va in campo io ragiono per meritocrazia e credo che si sia meritato la riconferma sul campo dovrà rimeritarci l'ennesima riconferma però e questo serve anche per gli altri non solo chi è fuori che se lavorano poi la possibilità arriva e la devono sfruttare ma anche per chi c'è la maglia da titolare chi ha la maglia se la deve combattere se la deve mantenere deve lavorare tutti i giorni capendo che indossare la titolarità la maglia da titolare dell'Ellas è un onore è un privilegio quindi non bisogna mollarla per niente al mondo perché altrimenti c'è qualcun altro dietro che te la ruba